Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo video, un nuovo video che è dedicato sempre ad alcune frasi molto molto importanti, molto interessanti che sto estrapolando da questo libro che sto leggendo, che vi faccio vedere, anche l'altra volta ve l'ho già detto, Market Wizard, lo vedete qui, di Jack Schwager. Ho già fatto alcuni video riguardante appunto alcune risposte alle domande che Schwager ha fatto da alcuni top trader, fate conto che questo qui è una collana, vedete, di libri, li sto rileggendo un po' tutti, poi c'è il New Market Wizard, questo molto molto interessante e questo qua che non ho ancora letto in realtà, Edge Found, Market Wizard. Sono tutte, tutte quante, in tutti i casi, sono interviste a importanti trader che hanno avuto risultati tangibili e sto leggendo questo, ovviamente sto dando piano, è in inglese, lo sto leggendo, rileggendo alcune frasi, me le sto rivedendo anche il mattino prima di andare nella mia trading room dei Platinum, no? E devo dire, almeno a me piace molto leggere queste interviste perché il libro di trading classico dove c'è spiegata una tecnica, va bene, ci può anche stare, ma lascia un po' il tempo che trova. Invece in questo caso questa tipologia di libri ci mostra l'approccio del trader, ci mostra l'approccio, diversi tipi di approccio, di molti tipi di trader importanti, c'è trader che hanno comunque avuto risultati e alcuni magari da molti non sono neanche tanto conosciuti, ma appunto per questo ancora di più, così ve li faccio conoscere, ed è bello perché si trovano molti punti in comune tra di loro, ma anche tra, devo dire, quelle che sono un po' l'approccio, la metodologia, la testa che da sempre io ho nel trading. E quindi voglio adesso prendere, estrapolare alcune altre risposte che ho preparato qui da questo libro che è quello dell'altra volta, praticamente Market Wizard, Interviews with Top Traders, quindi quello proprio il primo diciamo. In questo caso le frasi arrivano dal trader Michael Marcus, ok? Michael Marcus che era un commodity trader, è stato lui tra l'altro poi a dire al buon Schwager di intervistare Edward Seicota, quello dell'altro video, perché era stato uno dei suoi maestri. Poi ci sono alcuni di questi trader che non volevano essere intervistati, volevano mantenere un profilo basso, eccetera, eccetera, poi alla fine hanno avuto comunque la possibilità di essere intervistati. Spesso il trader ha un profilo abbastanza basso e molta, molta umiltà, no? Nel proprio approccio anche in generale, diciamo. Quindi oggi ho tirato fuori queste 3-4 risposte a queste domande, sono abbastanza dirette, abbastanza rapide da leggere, ma soprattutto secondo me possono dare una mano. Almeno devo dire che mi ci trovo molto e devo dire che quello che verrà fuori qui da questa lettura è una delle cose che devo dire a me ha fatto fare un po' il salto. Cioè, riuscire a fare, adesso vedrete di cosa si parla, un certo tipo di salto in quel modo nel trading, credo che sia proprio una delle caratteristiche che permetta di switchare i risultati in meglio. Allora, andiamo a vedere cosa diceva il buon Michael Marcus. Allora, eccolo qua, prendiamo, prendiamo qua, anzi, aspettate che ve la apro proprio completamente. Allora, che cosa diceva? Allora, quella in azzurrino ovviamente è la parte che volevo tenere senza leggere troppe cose. Allora, la prima domanda che fa il buon Schweiger a Michael Marcus è When you place an order, quindi, allora, ve la dico in italiano, quando tu piazzi un ordine e quindi vai in posizione, questo è accompagnato anche da un ordine per uscire, quindi un po' un ordine stop loss, diciamo. E lui dice sì, assolutamente sì, corretto. Un'altra cosa è che se una posizione non la senti più giusta, diciamo, appena posso lascio stare, cioè vengo fuori. Non essere imbarazzato nel cambiare la tua testa, nel cambiare idea e uscire. È super questa cosa, eh. Io penso che se voi chiediate ai Platinum, io tante volte cambio, change my mind, no? Cambio la mia testa, cioè io entro in posizione e poi in maniera molto tranquilla potrei uscire anche il giorno dopo o quando vedo che non ci sono più le caratteristiche. Ecco, non sono imbarazzato. E in questo caso provate a pensare, se siete voi il vostro conto, non dovete essere imbarazzati assolutamente, no? Io, noi siamo in una community di quasi 200 persone in questo momento e deve essere una cosa tranquilla, ok? Poi lui gli dice così, se tu fai un trade e cinque minuti più tardi non lo senti più giusto, non pensi di te stesso, non pensi con te stesso, beh, se esco così presto il mio broker penserà che sia un idiota. E lui dice, sì, esattamente. Se tu diventi insicuro riguardo una posizione e non sai cosa stai facendo, esci e basta. Tu puoi sempre rientrare. Quando sei in dubbio, esci e fatti una buona notte dormendo. L'ho fatto moltissime volte e il giorno successivo e la giornata successiva tutto mi era più chiaro. Anche questo è un qualcosa che mi vede totalmente in accordo, ma totalmente più che in accordo, in sintonia, diciamo. In effetti, quando una posizione non ci fa più stare tranquilli e sicuri, una volta vi ho detto che spesso nel trading si guadagna non tanto perché, beh, è ovvio che si deve avere, cioè si deve sapere quando comprare, quando vendere, avere una metodologia, eccetera. Però i risultati poi arrivano quando siamo sicuri di quello che facciamo, cioè quando ci crediamo. Una volta ho fatto questo esempio, se ci crediamo, e quindi il fatto anche di non crederci più, per esempio, è importante. Cioè, lui dice, infatti, quando sei nel dubbio, esci e vai a dormire, fatti una buona notte di sonno. Il giorno dopo si fa sempre tempo a rientrare al massimo, perché vedi tutto più chiaro. Infatti, noi spesso diciamo, meglio sempre attendere l'indomani, a meno che non sia, entro magari la sera, però magari è una cosa che sto guardando da due, tre giorni, che sto aspettando proprio, è stata razionalizzata bene. Ma, oppure esco, se non sono più sicuro, quella sera, no, di essere nel giusto, perché la situazione non mi rende più sicuro, usciamo, facciamo sempre tempo poi, con ulteriori conferme, a rientrare il giorno dopo. Assolutamente in sintonia. Credo che se c'è qualche platinum, che anzi, se vuole scrivere qualche commento su questo video, mi farebbe molto piacere, perché sarebbe, confermerebbe quello che è la nostra metodologia. Questa parte dell'intervista, secondo me, è proprio il top, anzi, rafforza ancora di più questa cosa che ho. E soprattutto, devo dire che, da quando sono anche più elastico in questo, i miei risultati sono migliori. Do you sometimes, cosa che gli dice poi il buon Schweiger a Michael Marcus, gli dice, poi qualche volta, torni nella stessa posizione dopo che sei uscito? Sì, spesso il giorno successivo, gli dice. Mentre sei dentro al trade, non riesci tanto a pensare. Quando tu sei fuori, beh, tu riesci a riflettere e a pensare più chiaramente. Assolutamente vero anche questo. Ovviamente qua dobbiamo essere bravi a distaccare, a avere sempre una visione il più possibile oggettiva, no? Della posizione su cui siamo dentro. A volte si nota come chi ha una posizione poi fa tutte le analisi in linea con la sua posizione, no? Addirittura inserisce delle trend line che sono più come le vorrebbe vedere o cose di questo tipo. Invece no. Noi dobbiamo pensare come se fossimo fuori dal trade e a volte se essere fuori dal trade ci fa riflettere in maniera più corretta, usciamo e al massimo rientriamo. Io faccio sempre questo, mi faccio sempre questo esempio. Se io adesso non fossi dentro a questo trade, comunque mi piacerebbe essere dentro su quel trade, oppure rimarrei dentro quel trade, se la risposta è non lo rifarei più o non ci sarei dentro, beh, meglio uscire. Ok? Non abbiamo l'imbarazzo. Come diceva prima, non pensiamo a, ma il mio broker forse pensa che io sia un idiota. Chi se ne frega? Cioè, quando siamo in dubbio, usciamo al massimo, rientriamo sul prossimo swing, sul prossimo conferma, senza nessun problema. Ultima parte che, diciamo, chiude il cerchio, dice qual'altro consiglio daresti al trader neofita? E lui dice, forse la regola più importante è di tenere duro sulle posizioni che stanno guadagnando e tagliare quelle che stanno perdendo. Vabbè, questo è un classico di borsa, ma che in realtà, anche se sembra così, no? Una frase un po' messa lì, è assolutamente vero e sono in totale accordo. Spiegando, dicendo, entrambe le cose sono ugualmente importanti. Se tu non stai con le tue winners, quindi con le tue posizioni in profitto, tu non sarai in grado di pagare per quelle che sono in perdita. Rischio rendimento, avete capito? Quindi, questo è importante, quindi cerchiamo di tagliare. Quindi, non c'è una posizione che è sana, la vediamo che non ci piace più, tagliamola. Io metto dei paracaduti, per esempio, e poi magari addirittura la chiudo molto prima. In questo caso ho migliorato in maniera esponenziale il rischio rendimento, per esempio. Davvero, eh? Magari ho posizioni che chiudono veramente a pochissima perdita e poi delle posizioni che invece, rispetto a quelle perdite, hanno un rapporto di rischio rendimento molto, molto più grande. Di 1 a 10 addirittura può succedere, no? Proprio perché la media delle perdite rispetto alla media dei profitti sono talmente diverse in questo modo qui che hanno un rapporto enormemente a favore dei profitti. Quindi questo significa tagliamo le perdite e facciamo correre i profitti. Correre non vuol dire che ti bendi gli occhi, stai un anno su una posizione e la guardi più. No, questo. Ovviamente con degli obiettivi. Ma cerchiamo di entrare e capire approfondendo quello che ci sta dicendo Michael Marcus. Se tu non fai così, quindi non stai un po' di più su quelle che... Quando il mercato ti dice che potrebbe continuare e invece magari ci stai di più, quando sei in perdita non sarai mai in grado di pagare per quelle posizioni in perdita. E quindi alla fine ne risulterà un conto in perdita, un conto che non è in guadagno e quindi un trader che purtroppo non è profittevole. Questo è. Bellissimo ragazzi. Io non so se sono io che mi innamoro di questi adagi, di queste frasi, di questi trader. In un'intervista poi tra l'altro io queste cose le tengo come preziose regole del mio trading. E spero che ne facciate anche voi uso, usando sempre la testa e soprattutto non innamorandovi mai di posizioni quando quelle posizioni probabilmente non ha più senso tenerle. Va bene. Allora a questo punto io direi che anche oggi abbiamo concluso. Questo sabato ho voluto fare un video di questo tipo. Io vi saluto, vi auguro ovviamente un buon weekend. Prima di tutto, non vi ho detto all'inizio, volevo dirvelo, dovete ovviamente, se vi è piaciuto questo video, mettere mi piace e iscrivervi al canale. Soprattutto iscrivervi al canale se non siete iscritti e se questi tipi di video, il nostro approccio al trading, il nostro modo appunto di approcciare i mercati, vi interessa, vi piace, vedete che vi dà una mano e vi supporta. Quindi ci farebbe molto piacere che metteste un like e vi iscriveste a questo canale. Direi che per oggi è tutto, io vi auguro una buona continuazione, un buon fine settimana e noi ci vediamo presto con i prossimi video, le prossime live. Un saluto a tutti, buon tre giorni.